Questa è la nona edizione della Gran Fonda dei Termini che si corre a Montecatini. Una gara che abbiamo tirato su dal nulla, si prevedono per questa edizione circa mille partenti che oltre dalla Toscana verranno anche da Nord Italia e del Centro Italia. Quest'anno abbiamo avuto dei grossi problemi vista la devastazione ventosa che abbiamo subito due settimane fa. Fino a ieri siamo stati con le motoseghe in mano a cercare di liberare il percorso. Purtroppo lo abbiamo dovuto tagliare perché molte zone sono tuttora inagibili, ci sarà un pochino più di asfalto però guardando il bicchiere mezzo pieno la gara si farà e domenica prossima vi aspettiamo tutti a Montecatini.